Allora, questa è la situazione che si vive qui a Pito, le immagini parlano da sole, le immagini parlano da sole, cioè per raggiungere questa frazione ci vogliono le poppe, lo scanzaneve fa poco, anzi niente. Quindi penso che siamo abbandonati a noi stessi sicuramente, provo ad immaginare un momento, un attimo, io ieri mia moglie Gabriele è caduta in mezzo alla neve, io stavo dietro, l'ho aiutato ad alzarsi e mi pregava, mi diceva fammi morire qui Giuseppe, fammi morire qui, non ce lo faccio più. Ecco, provo ad immaginare, siamo due persone anziane, se uno di noi si sente male, sicuramente moriremo. Questo è il messaggio che voglio dare, un messaggio forte che voglio dare alle istituzioni. Non vi lasceremo soli. Un altro messaggio che voglio dare, un altro messaggio forte. Stanno raccogliendo soldi con gli sms, con questi proclami. Italiani, non date soldi, non date soldi. Alimentereste soltanto le banche. Non date soldi. Grazie. Grazie. Grazie.